Buongiorno a tutti da Svizzelando a 360 e benvenuti in questo nuovo video. Anzi settimana scorsa è stata veramente dura, c'è stato veramente tanto lavoro e pensavo che anche questa settimana non riuscissi a pubblicare niente perché quando ci sono settimane così mi distruggo abbastanza e non basta il lavoro perché ho ripreso a fare palestra e tutto quanto e quindi mi devo anche distruggere lì. E quindi arrivo nei miei due giorni liberi e tento di fare video e sono morto, totalmente morto. Invece oggi infatti, visto che siamo in un'aura così negativa, parleremo di un argomento... Non so se ne ho mai parlato sinceramente, forse nei video passati ho accennato a qualcosa del genere. Infatti volevo proprio parlare delle cose che non mi piacciono della Svizzera. Soprattutto perché il video che volevo fare oggi, il video sul perito chimico, ho rinunciato a farlo. Perché? Perché non c'è un contratto collettivo del lavoro preciso sul perito chimico che viene chiamato laboratorista in chimica o biologia. Non c'è quindi un contratto collettivo specifico, ogni azienda, ho trovato di varie aziende i contratti collettivi però non mi soddisfacevano, non specificavano il lavoro del lavoratorista. E quindi ho trovato informazioni di cos'è e di cosa non è, ma non volevo fare. L'obiettivo del mio video non era quello, era proprio farvi vedere le condizioni di lavoro in questo settore. E dirvi cos'è questo settore, cos'è il lavoratorista in chimica. Non era proprio il mio obiettivo. Quindi mi sono messo a vedere un po', grazie anche a degli avvenimenti che sono un po' successi negli ultimi tempi, settimana scorsa. Infatti il mio socio, il mio grande amico, è stato male, è andato in ospedale, ha avuto una piccola disavventura in ospedale. Cosa che poi si è risolta e niente. Quindi ho detto di stipulare una piccola lista di cose che non mi piacciono della Svizzera. E quindi ve le elencherò in questo piccolo format, in questo piccolo video. Speriamo che non duri sette ore, come tanti altri. E partiamo! Allora, il primo punto è appunto l'insicurezza verso la sanità. Allora, con questa storia della cassa malattia, non si è mai sicuri. Nel senso, non mi sento sicuro nell'andare all'ospedale e farmi visitare, farmi curare o cose del genere. Perché sapendo che non è pubblica, sapendo che è a pagamento, e non conoscendo esattamente il sistema, ho paura che per una minima cagata mi arrivi a casa una bolletta da 30.000 franchi. E questo c'è il timore sempre di restare veramente gravemente malato, di rischiare qualcosa, di farsi male veramente da dover andare al pronto soccorso. Vabbè che poi nell'atto in sé ci vai, te ne freghi perché stai male, quello del genere, e ci va lo stesso. Però c'è sempre questo timore, visto che teoricamente la cassa malattia propone delle prestazioni base. Qualsiasi cassa malattia ha delle prestazioni base. Quindi il ricovero minimo in ospedale, le cure basilari, cose del genere, anche verso la maternità. Quando voi donne avrete un figlio e tutto quanto, le analisi, il parto e cose del genere, sono tranquillamente coperte dalla cassa malattia. In teoria dovrei starmene tranquillo. Però è successo un fatto la settimana scorsa che appunto il mio amico è stato male. E quando è andato all'ospedale, verso, cos'è che erano le 3-4 del mattino, non lo so. Ah no, è stato male verso le 2-3 del mattino. E poi il giorno dopo, la mattina quando si è svegliato, stava ancora male. Continuava in perterrito a vomitare, a vomitare tutta la notte. Anche la mattina gli è sempre venuto questo vomito, questo vomito. E non capiva che cavolo era successo. Tra i secondi prima e la sera prima stava bene. E poi si è svegliato tutto all'improvviso, così, che stava per morire tra un po'. E niente, quindi è andato al pronto soccorso. E la prima cosa che gli hanno chiesto, vabbè, che cassa malattia aveva. E un'altra cosa, se aveva avvisato il suo dottore di famiglia. Gli è rimasto un po' così, il mio dottore di famiglia. Sono stato male alle 2-3 del mattino, dovevo avvisare il mio dottore di famiglia. Stamattina che mi sono alzato, sono venuto subito all'ospedale perché stavo veramente male. Non è che uno ci pensa quando sta veramente male ad avvisare il proprio dottore di famiglia. Per chissà quale strano motivo, non ne ho la più pallida idea. E niente, hanno fatto proprio un po' di storie per sta cosa che non aveva avvisato il proprio dottore di famiglia. E niente, poi si è risolta, gli hanno fatto le analisi, gli hanno flebato. No, gli hanno fatto delle flebo di sali minerali e altre cose per farlo un po' riprendere e è finita lì. Mi hanno dato qualche medicina per il vomito e è finita lì. Però questa cosa mi ha un po' colpito. Io non l'ho mai, allora, da quando ho il permesso B non l'ho mai provata direttamente. Quindi non potrei, non saprei cosa dirvi. Però, boh, c'è sempre questo timore. La seconda cosa che non mi piace è il fatto di doverti assicurare per ogni cagata. Ok, assicurazione sulla casa malattia. Fai la casa malattia, va bene. Per la macchina, va bene. Per la responsabilità civile, è anche questa cosa. E ci sarebbero una miriade di assicurazioni anche sulla copertura pensionistica. Sono tutte cose che comunque in Italia non si è abituato a dover pagare. Non ci sono leggi che ti obbligano ad avere certe assicurazioni. Tantissimi si assicurano per qualsiasi cagata. Anche se non dovesse succedere nulla in tutta la tua vita, tu hai pagato tutti quei soldi. Ok, può sempre capitare una disgrazia e cose del genere, ma ti rompe le palle. Dover pagare tutte queste assicurazioni. Anche questa assicurazione della responsabilità civile, che paghiamo all'anno, si, tutto quanto. È una grande rottura. Perché alla fine ti sembra che tu non puoi avere alcuna disgrazia. Non puoi combinare qualsiasi cosa, non puoi avere alcun danno, che senza questa assicurazione tu sei finito. Tu sei finito. Mettiamo che succeda qualcosa alla macchina o fai del male a qualche persona, disgraziatamente, oppure succede qualcosa in casa, cose del genere. Hai la paura che appunto queste disgrazie ti costino veramente decine e decine di migliaia di franchi. E anche questa è una cosa che non mi piace da Svizzera. La paura di dover pagare migliaia e migliaia di franchi per niente. Già la questione del pagamento, del pagare così tanto per qualsiasi cagata, già di per sé non mi piace. In guasto elettrico partono centinaia di franchi, in guasto idraulico centinaia di franchi. Guasto di qualsiasi tipo in casa o anche se tu dovessi andare dal meccanico a cose del genere, centinaia di franchi. Ed è un po' la rottura di palo, è una cosa che non mi piace della Svizzera. Quindi anche questa cosa che devi assicurarti per tutto, di pararti il culo per tutto, senza poter vivere un attimo tranquillamente anche se succedesse qualcosa. Sì, sono cose positive, se veramente successe qualcosa di grave sei a posto, però ti dà ansia sta cosa, cavolo. Terza cosa, terza bellissima cosa è la polizia. Non ho ritrovato lo stesso, non dico affetto, non è che dico che la polizia deve essere affettuosa con te, però lo stesso tocco umano della polizia italiana, dei carabinieri, della polizia comunale o stradale o qualsiasi tipo di polizia che si può avere in Italia. Comunque la polizia in generale, le forze dell'ordine qui in Svizzera mi sembrano forse eccessivamente severe, nel senso che ti guardano sempre dall'alto verso basso, soprattutto se sei straniero. Ve lo assicuro che se sei straniero, tu sei così e loro sono così. Per qualsiasi cagata, dalla dogana ai normali controlli, va benissimo essere seri, va benissimo essere professionali, però avere quella freddezza interiore anche per le minime cavolate. Come quella volta che vi ho raccontato, che avevo lasciato 5 minuti dalla macchina accesa dentro il mio parcheggio sotterraneo, è arrivato questo qua, sembra che aveva ammazzato una persona. Sembra che avevo fatto chissà cosa, che se non avessi spento il motore mi avrebbe massacrato di multe. Ho detto, mamma mia, con questa torcia del... e questa è un po' la strizza che ho di essere sempre intorto, di essere sempre intorto per le cose che faccio, magari dei normali controlli. Quindi ho sempre la caghetta di... neanche la caghetta, è una rottura di coglioni, di star lì due ore per niente, che magari ti vedono un po' strano e ti devono controllare 300.000 cose. Non è cosa che succede così. È sempre così. Già la mia faccia, devono controllarla. Ed è una delle cose che non mi piacciono. Quarta cosa è questa poca flessibilità degli svizzeri. Dipende poi da che persona, da persona a persona, per carità. Però ho riscontrato veramente che se li stravolgi il loro piano di vita, se li stravolgi il loro piano lavorativo o comunque la loro metodologia di vita o di lavoro, molte persone, non dico che vanno in panico, però tendono a essere prettamente fiscali. Anche molto, molto a livello lavorativo. Nel senso, questo è il mio compito, queste sono le mie cose da fare, da dire e faccio esattamente questo. Questo non aiuto, non ti aiuto, non faccio extra e se faccio extra me le pisci da morire. E non è una cosa che ammiro molto frequentemente. Nel senso, a parte qualche ufficio pubblico che mi hanno veramente aiutato tante volte, ma magari negli uffici privati, nelle segreterie, cose del genere, se esci un po' dalle loro priorità, dalle loro metodiche lavorative, perché ti serve d'aiuto, cose del genere, loro non vanno in panico. Oppure comunque ti rispondono neanche tanto in modo arrogante. Te lo fanno pesare la cosa che loro stanno uscendo dalle loro normali funzioni per aiutare te. Non ti fanno, non ti danno quelle emozioni, cioè quella sensazione che per loro non è un problema. Te la fanno pesare tra sguardi, anche il modo di parlare, cose del genere. Mi è capitato molto quando ho fatto la patente, quando ho avuto quei casini con la patente, quando sono andato a chiedere informazioni per la licenza gastronomica. Ad esempio, lì sono andato semplicemente a chiedere un po' di informazioni, orari, come si faceva, cose del genere. So che c'era scritto su internet, però magari avevano qualcosa in carta, una modulistica in carta, non lo so, come avevano in Ticino, per essere più chiari e precisi. Invece no, no, ce l'hai su internet e vai, guardate su internet. Allora che cazzo ci stai a fare te lì, segretario? Non cominciamo a uscire fuori dai gangari, cioè. Segreteria, informazioni, io ti chiedo informazioni, tu non me le dai, cosa ci stai a fare? Vabbè, anche quel discorso della patente, così che si vedeva che era scocciata ad aiutarmi, però l'ha fatto alla fine. E niente, è una cosa un po' che non mi sta bene di molte persone. Passiamo ad un'altra cosa un po' più, diciamo, idiota, però è una rottura di palla, anche questa. Che non mi piace veramente, che ho riscontrato non solo qua a Visma, ma anche da altre parti. La ripetitività di queste cavolo di campane. Ti lo dirò fino alla fine, non trovo la logica di far suonare queste campane in onari assurdi. Se è mezzo del mattino, mezzogiorno, a fai dieci del mattino, mezzogiorno e mezza, sette e mezza, sette di sera. Strana che non ha suonato oggi, eh? Beh, ha suonato alle sette, comunque. Ehm, perché? Perché diecimila volte? Perché alle sei e mezza del mattino? Che cavolo mi serve sentire la campana alle sei e mezza del mattino? Che cavolo è che ci va a fare la messa alle sei e mezza del mattino? Eh? La domenica, la domenica è impressionante. Cioè, la domenica puoi startene a... non puoi startene a casa, anzi. Se sei vicino alle chiese, devi sloggiare. Perché tutto il giorno, bam, bim, 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 bim. E non è che stanno due minuti e così, mezz'ora, mezz'ora di campane, di rotture, di... Vabbè, cerchiamo di monetizzarlo questo video, se no... Cominciamo troppo a esaltarci. Comunque, le campane, le campane. Poi, fatemi sapere voi, se sapete, appunto, una motivazione logica, se c'è veramente una motivazione scritta in qualche legge svizzera, che le campane debbano essere così insistenti, fatemelo sapere. Poi, un altro punto, è un punto che mi sta un po' a cuore. Nel senso che, avendo visto certe situazioni in ambito lavorativo, non capisco, in un paese come la Svizzera, come possano accadere, come possano esserci certe situazioni. Fino a quando si vanno a fare i controlli igienici sulle condizioni del locale, cose del genere, va tutto bene, i controlli ci sono. Ma i controlli sul lavoro, sul lavoro nello, sulle condizioni dei lavoratori, dove cacchio sono? Allora, io parlo per la mia situazione, quindi per la mia esperienza lavorativa. Io, in dieci anni, ho avuto un controllo. Un controllo. Per carità, sono venuti in borghese, tutto quanto, e siamo ritrovati un po' così, però, gli sgamavi da lontano che erano quelli. Comunque, in dieci anni, ho avuto un controllo. E, forse ho già detto, un qualche video fa, nella mia pizzeria si sono seguite veramente tante persone che hanno lavorato in nero per veramente tanto tempo, con orari massacranti, con responsabilità massacranti, cioè, neanche tanto responsabilità, logiche del lavoro massacranti, quindi servire, pulire, fare, disfare, per magari tre soldi. Cioè, non voglio dare cifre, cose del genere, ma veramente sono tre soldi. Sono veramente tre soldi che, in Svizzera, stipendi così non esistono, non esistono, non puoi campare due settimane con un stipendio così, no. E, niente, non è mai venuto nessun controllo, non è mai... Io mi faccio il mio e me ne fotto un cavolo, cioè, non me ne frega niente, per carità, però, mangiarci, marciarci su queste cose, a me, mi dà fastidio tanto. Nel senso, perché comunque so che la ristorazione è un lavoro duro, e vedermi certe persone che lavorano 12, 13, 14 ore al giorno, per una miseria, senza un giorno libero, senza... senza una dignità, perché anche se, quando chiedevano giorni liberi, quando chiedevano un po' di libertà, sembra che chiedevano chissà che cosa, e c'era sempre lo stesso, come si può dire, lo stesso argomentazione, nel senso che io ti do tot, ma tu non devi pagare né cassa malattia, non devi pagarti, non hai alcun'altra spesa, però così impedisci magari a quella persona che viene di cercare di farsi magari un futuro in Svizzera, di magari, che ne so, appunto, crearsi un qualcosa in Svizzera, non può, perché rimane bloccata in quel limite di stipendi, quel limite di lavoro che ti impedisce di progredire, e poi, vabbè, viene trattata... vengono trattate in modi un po' così, però, vabbè, diciamo che le condizioni lavorative non sono delle migliori per quel tipo di gente lì che ho visto in pizzeria, e non capisco, appunto, perché non ci siano controlli, comunque la polizia passa, tutto quanto, vede questa gente, queste persone che lavorano, fanno i camerieri, cose del genere, e non lo so, non so se c'è un tipo di denuncia, nel senso che i controlli arrivano, se c'è una qualche tipo di denuncia, e quindi non facciano controlli così casuali ogni tanto, non lo so, non lo so, non lo so, non so proprio dire, so solo che in dieci anni, non dico che ogni anno deve venire, però ogni due, tre anni, qualche controllo così, a macchia di leopardo, magari siamo duemila ristoranti e vispe, però, vabbè, è una cosa che mi urta un pochettino. Poi c'è questa cosa che è statamente personale, appunto, per il mio luogo di lavoro, ed è, appunto, la mentalità della gente che c'è, un po' in pizzeria, della cerchia delle persone che ci sono in pizzeria, ed è anche un po' uno dei motivi che mi hanno un po' spinto a cercare di fare qualcosa di mio, perché non sono persone che ritengo debbano avere il mio rispetto, sono persone che, che comunque, io venendo dall'Italia, avendo una certa immagine della Svizzera, pensavo che non esistesse, cioè che certe situazioni non siano relegate alle grandi città, quelle del genere, però, trovarmi certe persone senza un minimo di cultura, un minimo di, non lo so come spiegare, un discorso un po', non vorrei entrare troppo in specifico, però, una certa mentalità retrograda, una certa cultura maschilista, molto materialista, molto attaccata al denaro, senza un minimo di rispetto, magari, per la propria famiglia, cose del genere, mi ha sempre rotto le palle, mi ha, mi ha sempre, mi ha veramente rotto le palle, mi ha veramente stancato, e dopo un po' certe situazioni non riesco neanche più a, a sopportarle, a lasciarmele dietro, quindi questa è una cosa, prattamente personale, che non mi è piaciuta, di tutta questa mia esperienza in Svizzera, è proprio generica la cosa, non dico che è prattamente incentrata sulla Svizzera, però, pensavo che comunque, la società svizzera, cose del genere, poteva cambiare certe persone, invece, non lo fa, Ah, poi, un altro argomento, molto, 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 sentito da chi abita e vive qua in Svizzera, e lavora qua in Svizzera, il costo esagerato dei mezzi di trasporto, soprattutto i treni e i mezzi turistici, nel senso, magari, i battelli, o i trenini turistici, o cose del genere, qualsiasi cosa che sia turistico, diciamo, soprattutto per luoghi come, comunque, il Vallese, che per, magari, andare a visitare certi posti, certe cose, ci vogliono certi spostamenti in treno, anche di una, due, due ore e mezza, tre ore di treno, e non è possibile sempre andare in macchina, perché, nonostante sia molto più vantaggioso andare in macchina, in auto, risparmi veramente tanto, ma, tipo, la condizione che abbiamo noi in Vallese, essendo una valle alpina, comunque, per andare nel resto della Svizzera, devi fare dei giri enormi, oppure, comunque, attraversare i passi, comunque, devi scalare le ste cavolo di Alpi, per andare nel resto della Svizzera, e, per molti aspetti, se sei in vacanza, se sei un turista, così, è anche figo, ti fai il tuo giretto, tutto quanto, vedi dei bellissimi paesaggi, per carità, eh, bellissimi paesaggi, bellissimi panorami, tutto quanto, ma, se hai i miei due giorni liberi, ti vuoi fare una scampagnata a Zurigo, il viaggio in sé, in macchina, è devastante, il treno, pure, perché, se noi non avessimo l'abbonamento a metà prezzo, certi viaggi, anche solo di un'ora, un'ora e mezza, due, nonostante, eh, viaggiamo in comodità assoluta, nella, le condizioni di viaggio sono veramente ottimali, è tutto pulito, è tutto perfetto, è tutto ordinato, viaggi tranquilli, non ci sono cagacazzi, che entrano in treno a rompere i coglioni, non ci sono, eh, la solita cosa, non ci sono immigrati, che baggano il biglietto, e cose del genere, i ritardi sono veramente, veramente ridotti, quindi non hai sorprese di, di orario, cose del genere, però, è sempre oneroso fare certi viaggi, se mi voglio fare una scampagnata a Zurigo, o a Basilea, partono centinaia di franchi, se non avessi l'abbonamento a metà prezzo, anche, che ne so, andare fino a Interlaken, un'ora e un'ora, cose del genere, che sono bellissimi i posti, sono parecchi soldi, che partono, io non è che guadagno, diecimila franchi al mese, eh, e quindi, per le, per le fasce di popolazione, che, hanno un po' un reddito, medio-basso, è un po' limitativo, scoprire questo bellissimo paese, diciamo che, sembra che ci sia, una struttura dietro, che impedisca, agli stranieri in sé, perché alla fine, sono gli stranieri, quelli che prendono, di meno, rispetto a, tutti gli altri, l'80% degli stranieri, che vengono in Svizzera, non sono laureati, non sono diplomati, non hanno professioni, tecniche, specializzate, o cose del genere, se le hanno, se magari, dopo vent'anni, trent'anni, che sono qua, prendono una buona paga, eh, perché si sono fatti, un culo della madonna, eh, sono diventati, magari, capocantieri, eh, stanno la lingua benissimo, cose del genere, quindi sono, eh, si sono alzati di livello, però l'80% è gente semplice, gente normale, che prende media dai 3.000, 4.000 franchi, non c'è da stupirsi, eh, netti sto dicendo, e puliti nel senso, quindi certe cifre, possono anche essere, un po' arrisore per tanti, e anche, eh, ad esempio, mi è venuto in mente, l'esempio che mi ha fatto, la mia ragazza, l'altra volta, quando è andata a Interlache, da sola, è andata a farsi un giro da sola, così, e voleva fare un po' il giro del lago, visto che in Italia, un giro del lago, ti sarebbe costato, cosa che era, 20 euro, 20, 30 euro, ha guardato i prezzi, erano all'incirca 70, 80 franchi, a testa, e si è un po' spaventata, per, adesso non so quanto, sarebbe durato il giro, forse mezz'oretta, non lo so, ma comunque, eh, se, se vuoi veramente viaggiare, se vuoi veramente fare cose carine, e vedere bene la Svizzera, portati veramente, tanti soldi, perché, costa, costa veramente tanto, nonché magari, posti, eh, turistici, anche in montagna, in Italia, costino, eh, di meno, però, vabbè, sono, sono spese, che comunque, devi affrontare, se, se, se vuoi avere, quel tipologia di vita, di viaggiatore, cose del genere, ti limiti ad altre cose, puoi comunque, far star dentro, nelle spese, eh, tutti questi viaggi, e cose del genere, perché comunque, non vai ogni giorno, non è che te la viaggio ogni giorno, quindi, capita ogni volta, ogni tanto, quindi, ci può anche stare, con la spesa ogni tanto, e, l'ultima cosa, l'ultima cosa, che, eh, anche questa, è molto sentita, da, chi vive qua in Svizzera, ed è, a parte il costo, degli appartamenti, va bene, mh, costo di, magari anche di quelli scadenti, di quelli, delle catapecchie, che, a volte, costano veramente, un putiferio, per, non si sa quale motivo, ok, hanno spese, e tutto quanto, va benissimo, però, ma soprattutto, il costo, dei, degli appartamenti, eh, nuovi, cioè, soprattutto, se sono leggermente, in centro, ti dici, eh, che cacca, che quanto cazzo è, cioè, sembra che gli appartamenti nuovi, siano solo per la classe, eh, medio alta, e, quella medio bassa, deve, eh, buttarsi, nelle catapecchie, io comunque, vedo, vedo in Italia, che con, volendo, anche, 500, 600 euro al mese, tipo, per mettere un appartamento, di 70, 80 metri quadri, eh, magari, con qualche strutturazione, riesce anche a renderlo bello, moderno, eh, con tutti i confort possibili, ma, invece, qua, un appartamento di 70, 80 metri quadri, eh, certe volte arrivi a sfiorare 2.000 franchi, eh, i nuovi, quelli nuovi, 1.700, 1.800, 2.000 franchi, cioè, sono, sono veramente, incalcolabili, certe cifre, cioè, troppo metà del mio stipendio andrebbe lì, però, vabbè, volendo, se uno, se tutte e due lavorano, al 100%, volendo, ce la si può anche permettere, devi togliere veramente, tante altre spese, però, sono veramente cifre, che pesano sul bilancio familiare, e, soprattutto, appunto, quelle nuove, ed è questa una cosa che odio veramente tanto, perché sono case bellissime, hanno dei design che amo veramente, ultra moderni, ultra, eh, sofisticate, hanno tutto, magari anche in, in quartieri veramente belli, tranquilli, che dici, cazzo, eh, la vita che vorrei, poi, porca puttana, ammazzate così, a volte, esce qualche, offerta, qualche riduzione dei prezzi, così, però, devi, devi essere veramente, fulminio, e ci sono anche liste d'attesa veramente alte, non ho detto che te lo diano, è veramente una cosa che odio, mortacci vostri, ok, ci sono anche tutte le spese, eh, dentro, quindi la corrente, cose del genere, però, vabbè, niente, eh, il prossimo video, invece, sarà incentrato, appunto, sulle cose che amo, della Svizzera, quelle che mi hanno fatto, proprio, innamorare, di botto, così, eh, quelle che odio, non sono, così tante, nel senso, non, non ne ho trovate, che mi dessero, da sbraetare, così tanto, sono solo alcune, forse, che, eh, sono un po', grazie, che potrebbero, si potrebbero anche cambiare, ma, ma niente di che, spero che il video vi sia piaciuto, che, eh, magari chi vive già in Svizzera, può ritrovarsi in questo piccolo elenco, è del tutto personale, è del tutto personale, quindi, non, non massacratemi, non dite, eh, che cavolate, io, queste cose le penso, quindi, eh, è stata una piccola riflessione, che, che ho voluto fare, il prossimo video, ripeto, saranno le cose, che mi hanno proprio colpito, la Svizzera, che mi hanno proprio fatto innamorare, eh, di questo paese, soprattutto, un, nella parte iniziale, quindi, vi farò vedere le cose, che io ho visto qua, quindi, nel canton vallese, che mi hanno fatto innamorare, di questo posto, e quindi, poi, del resto della Svizzera, e niente, lasciatemi un like, iscrivetevi, commentate, ovviamente, e, ci vediamo al prossimo video, ah, condividete il video, più che possibile, e in modo da crescere, fino all'infinito, arrivare a 70 milioni di iscritti, non sto scherzando, ah, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, 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 Grazie.